E' una legislatura alla quale vanno sottratti i due anni abbondanti delle covid. Così ha detto la presidente dell'Umbra Donatella Tesei nella conferenza stampa di fine anno della giunta regionale. La presidenta ha parlato dei progetti messi in piedi e del prossimo e ultimo anno di legislatura. Tesei ha affermato che il 2023 è stato un anno di ripresa per l'Umbra durante il quale la regione ha ottenuto visibilità a livello internazionale come indicato dai dati sul turismo e dal record registrato dall'aeroporto. Un anno caratterizzato anche dalla vivacità delle imprese e nell'intero settore dell'economia nonostante un contesto complesso. Abbiamo dovuto lavorare tanto perché i contesti internazionali e di evoluzione sicuramente sono tanti ma ci sono molti risultati positivi e naturalmente è l'anno che ci fa guardare al futuro su grandi opere che aspettano di essere realizzate dal punto di vista infrastrutturale. Ci sarà un grandissimo slancio e sostegno alla nostra economia regionale grazie anche alla nuova programmazione e quindi alle tante risorse che abbiamo ottenuto che oggi attraverso il cofinanziamento potranno trasformarsi in misure di sostegno per la crescita, per lo sviluppo, per l'innovazione. Quindi insomma ci sono delle buone sensazioni per il prossimo futuro dell'Umbria. La presidente Tesei ha dichiarato di aver sempre lavorato per promuovere politiche orientate al futuro della regione. Ha sottolineato la necessità di continuare con determinazione gli investimenti nelle infrastrutture identificando l'isolamento dell'Umbria come uno dei problemi che ha ostacolato la crescita. Tesei ha poi annunciato che presto sarà concluso l'accordo per il fondo di sviluppo e coesione permettendo di utilizzare 61 milioni di euro per cofinanziare le consistenti risorse già assegnate sia per la programmazione 21-27 che per l'agricoltura.